Ecco come vendere casa per ricomprare in modo semplice e senza stress. Scrivo un cartello con scritto VENDESI, lo piazzo fuori casa mia e attendo che qualcuno bussi alla mia porta. Nel frattempo, navigo su numerosi portali immobiliari e scelgo la casa che più mi piace. Vendere per ricomprare è un gioco da ragazzi, no? Se sei tra i tanti convinti di questa cosa, allora sono io a porti due domande. Metti in vendita la tua casa e un acquirente disposto ad acquistarla salta fuori il giorno dopo. Ma se tu non hai ancora trovato la nuova casa da acquistare, dove andrai ad abitare nel frattempo? In auto? In affitto? E se invece succedesse il contrario? Ti innamori a prima vista di una casa, la compri ma casa tua è rimasta invenduta. In tutte queste situazioni, che fidati, si verificano più spesso di quanto pensi quando si improvvisa agenti immobiliari. Le uniche cose certe sono che perderai tempo e soldi. Ciao, sono Loretta Agnelli, titolare dell'Agenzia Trade in Casa, agenzia specializzata nella vendita residenziale a Piacenza e a Parma. Voglio mostrarti il nostro sistema per vendere la tua casa e acquistare un'altra in modo semplice, sicuro e veloce. Perché in modo semplice? Perché pensiamo a tutto noi. Tu dovrai solamente affidarci la tua casa, descriverci la nuova soluzione che desideri acquistare e nel frattempo che non ci mettiamo all'opera, tu potrai continuare a dedicare il tuo tempo alle attività che preferisci. Come riusciamo a garantirti una vendita e un acquisto sicuri e veloci? I nostri numeri parlano chiaro. Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo venduto 140 immobili. Nel 2021 ne abbiamo venduti 180. Abbiamo raggiunto questi numeri straordinari senza chiedere ai nostri clienti di firmare il mandato di esclusiva. Ma soprattutto, Trade in Casa vende il 25% degli immobili nei primi 20 giorni e il 90% nei primi 90. Ti sembrano buoni indizi per scommettere su di noi? Ecco le fasi che affronteremo per la vendita e il riacquisto. Il primo step consiste nella corretta valutazione di casa tua, prendendo in considerazione una serie di fattori che determineranno il prezzo finale. Successivamente alla valutazione, dobbiamo capire se le operazioni di vendita e acquisto sono realmente praticabili dal punto di vista finanziario. I nostri consulenti eseguiranno l'analisi dell'operazione valutando la tua situazione economica. Se hai muto da estinguere e quale nuova percentuale la banca potrà concederti per acquistare la nuova abitazione. L'esito positivo dell'analisi aprirà ufficialmente le danze. Siamo pronti a questo punto a vendere casa tua a patto che avrai accettato la valutazione di cui ti abbiamo parlato un attimo fa, cioè il valore che riteniamo appropriato per un immobile come quello di cui sei proprietario. Se ci darai l'ok, procederemo con la promozione della soluzione, in modo da concedergli la visibilità che merita. La nostra strategia promozionale comprende la creazione dell'annuncio basato sulle caratteristiche del potenziale acquirente di casa tua, la pubblicazione sul nostro sito e sui principali portali nazionali, Facebook advertising, indirizzate al target e sales letter da distribuire nella zona in cui si trova il tuo immobile. Per un numero selezionato di immobili procediamo anche alla creazione di video professionali che riprendono l'immobile a 360 gradi e a organizzare open house. Ci siamo! Abbiamo messo la tua casa in vendita e le stiamo dando tanta visibilità. Continuiamo con la selezione dei potenziali acquirenti. Non ci piace portare in giro i perdi tempo, né fare perdere tempo alla gente. Ci arriva in grande soccorso la nostra banca dati, con oltre 2.800 potenziali acquirenti solo per Piacenza. A visitare il tuo immobile porteremo solo gente che cerca una casa simile alla tua nella stessa zona e col budget adatto. Arrivati a questo punto saremo pronti per cercare la tua nuova casa, sempre organizzando visite mirate per evitare di portarti in case che non rispecchiano le tue esigenze. A questo punto scriveremo la proposta di acquisto che dovrà contenere dei vincoli molto importanti per la buona riuscita sia dell'operazione di acquisto che di vendita, le tempistiche del rogito e di consegna delle chiavi, le caparre che l'acquirente dovrà versare e che non ci siano vincoli per il mutuo preferibilmente. Sì, hai ragione, è una fase molto noiosa. Ma tranquillo, ci siamo qui noi. A questo punto abbiamo in mano una proposta su casa tua. Possiamo attivarci per concludere l'acquisto della tua nuova abitazione. Cosa succede quando tu avrai trovato la casa che stavi cercando? Come prima scriveremo la proposta di acquisto che dovrà coincidere con quella di vendita, sia per le tempistiche del rogito che per la consegna delle chiavi. Questo per evitare brutte sorprese all'ultimo minuto. Credi ancora che vendere per ricomprare sia un'operazione alla portata di tutti? Se hai compreso che non ho un gioco da ragazzi, la soluzione è affidarti ad un'agenzia professionale come Trade in Casa, l'agenzia che non chiede l'esclusiva. Compila il form in basso per prenotare la valutazione gratuita e senza impegno della tua casa. Se la compili ora, ti garantiamo la valutazione entro 48 ore. Ciao! Grazie per la visione!